Buonasera, benvenuti e ben ritrovati con la nostra tribuna politica e il nostro contenitore di approfondimento sui temi di natura politica regionali e provinciali questa sera ci concentriamo come è ovvio che sia sull'esito delle elezioni provinciali e abbiamo il piacere di ospitare con noi il presidente Neoletto Camilo D'Angelo buonasera e congratulazioni buonasera a voi e abbiamo il piacere di ospitare con noi il presidente uscente Diego di Buonaventura buonasera a tutti voi tecnicamente intanto è già presidente Camilo D'Angelo è già presidente, da questa mattina è già presidente, anzi da ieri notte ok quindi c'è stata già la proposta proclamata ieri notte allora non si offenderà Diego di Buonaventura se do un attimo la parola diciamo diversi al neopresidente qui appunto intanto faccio le congratulazioni per qualche cenno almeno di presentazione perché lei da Valle Castellana a Teramo la conoscono solo per l'ascissione dalla provincia di Teramo adesso insomma ha un ruolo un pochino più importante a lei spetta il compito di presentarsi l'ascissione è una pagina di Valle Castellana che andava avanti da 140 anni quindi è semplicemente stata una volontà dei cittadini di esprimersi una volta per tutte se rimanero o meno con l'abruzzo o andare con le marche naturalmente il popolo si è espresso democraticamente è stata l'idea del mio gruppo di maggioranza la mia idea sotto richiesta di un comitato che aveva raccolto 476 firme quindi queste firme sono significative per Valle Castellana perché rappresentano oltre il 50% degli eventi diritti degli elettori quindi significa dare possibilità al popolo di esprimere una voce chiaramente è una cosa, un referendum fatto tre anni fa dove il risultato è stato chiaro solo il 20% ha espresso la volontà di andare con le marche quindi siamo rimasti in abruzzo quindi è una cosa superata oggi lei è tanto superata che lei è presidente della provincia di Teramo la mia esperienza politica nasce nel 2002 come consigliere candidato tre volte consigliere e poi due volte sindaco eletto la prima volta contro il mio stesso gruppo di maggioranza con una lista totalmente nuova dove io ero capolista poi la seconda volta ero eletto con un'ampissima maggioranza e durante questo percorso di 20 anni ho ricoperto anche altri carichi politici sono stato 10 anni presidente del consorzio turistico di Monti Gemelli quindi il consorzio che gestisce le impianti di risalita a San Giacomo quindi la stazione di San Giacomo Monti Piselli sono stato tra anni presidente di Interlaga S.P.A. una società per azioni che gestiva la metanizzazione dell'area interna sono stato, sono presidente dell'Unione dei Comuni della Laga ho fatto, ho ricoperto il ruolo all'interno del Consorzio di Bonifica Nord del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Nord ho avuto come unica esperienza di partito quella del Partito Democratico dal 2007? No, pentito diciamo la mia conclusione di questa esperienza è secondo me il rassunto del Partito Democratico io ho preso la tessera nel 2007 sono stato nel PD fino al 2017 sono stato 10 anni serietario di circolo del mio comune sono stato nel direttivo provinciale commissione di garanzia provinciale del partito quando mi sono candidato alle elezioni comunali siccome il partito fiutò che o meglio le proiezioni, le previsioni erano di una mia sconfitta eclatante l'allora segretario provinciale del partito e un consigliere regionale e esponente del partito vennero personalmente a Valle Castellano si ricorda chi era? beh, è antipatico diciamo dirlo era Gabriele Minossa vennero a fare campagna elettorale contro di me perché erano convinti che io perdessi quindi per accaparrarsi diciamo probabilmente il bene, il placet di questo candidato opposto a me avverso a me vennero a farmi campagna contro poi il destino volle che io vinsi quelle elezioni e naturalmente da quel momento in poi ho abbandonato la tessera del partito capendo che non aveva alcuna funzione appartenere a un partito quando un segretario di circolo dopo 10 anni si candida a sindaco e lo stesso partito gli fa campagna contro naturalmente capì che non aveva alcun senso e questo rassunto, quell'episodio del 2017 si è ripetuto anche adesso sulla provincia tant'è che il partito non avendo espresso un candidato neanche avendo il coraggio di esprimerlo perché a mio avviso un partito deve esprimere una propria candidatura anche quando sa di perdere non necessariamente deve vincere o meglio è peggio accordarsi con un partito che se fosse vicino avrebbe anche un senso accordarsi con un partito che ha idee, ideali totalmente opposte a quello del partito democratico per avere uno scambio non si è poi capito di cosa l'idea originaria poteva anche essere diciamo di ampio respiro cioè esprimere una candidatura unitaria per amministrare un ente di secondo livello come linea di principio può essere un'idea anche ideale e lo scambio era? no, all'inizio diciamo una candidatura doveva essere unitaria quando unitaria non era più non ha più senso appoggiare un partito avverso al PD e naturalmente da quello che mi magari il Presidente Emerito ci potrà confermare lo scambio era con la Vicepresidenza con Deleghe Pesanti per Deleghe Pesanti forse viabilità si intendeva a uno dei consiglieri provinciali quale poi magari non lo so si presume, si desume dovesse essere il Sindaco di Castiglione naturalmente questa cosa a mio avviso è ancora più abberrante facendo un po' arrabbiare Scarpantonio magari ma al di là di arrabbiare o no il dato è questo è che non si possono diciamo fare apparentamenti finalizzati a uno scambio di Deleghe o di Poltroni perché viene meno l'idea di partito questo è Diego Di Bonaventura lei insomma intanto volevo sapere è al corrente di questo insomma di questa trattativa cioè nel senso è così era questo lo scambio era solo la Vicepresidenza veramente le indiscrezioni parlavano anche del Ruzzo di modificare lo statuto del Ruzzo per un quarto posto in CDA domani peraltro c'è anche l'Assemblea dei Soci quindi ecco c'è ancora fermento insomma show must go on allora questa credo sia un po' di fanta politica ok ci faccio il fatto è che è stata un'elezione particolare e lei chi ha appoggiato? io parto così è stata un'elezione particolare perché è stata un'elezione particolare perché ha detto bene il sindaco oggi presidente della provincia che doveva trovare tutti i partiti che volevano un candidato unico poi giustamente ognuno ha iniziato a mettere i vetri e il candidato unico non poteva più uscire Camillo D'Angelo aveva una forza che era partito già anzi si era seduto quando lui aveva tutto da perdere perché lui era già partito tantissimi mesi fa è innegabile questo questo fatto ha già iniziato a lavorare perché giustamente anche uno ci punta dopo tutto quello che che ha fatto ci puntava si è seduto poi non standoci più le condizioni non da parte sua ma da tanti altri livelli giustamente lui ha continuato l'ha detto non mi ritengo nessuna costa continuo il mio progetto civico ed è partito poi è successo quello che avete visto il centro-destra con delle fratture con tre diciamo così tre centro-destra tre centro-sinistra due cinque stelle non lo so ed è successo quello che è successo si è partiti con un'idea gli ultimi due giorni è cambiato lo scenario il testo a testo tra D'Angelo e Piccioni ed è innegabile penso che Teramo abbia deciso chi era doveva diventare il candidato poi l'urna quello che è deciso Teramo sento qui leggo vedo foto abbracci adesso poi tutto può accadere perché saranno state lei perché ha fatto campagna elettorale io sono presidente c'era Domenico Piccioni c'era tanti amici avevo Massimo Magnoni che dobbiamo ringraziare veramente che ha corso in questa competizione è partito guarda me sempre partendo sapendo che ne sei meno di forse di Camillo D'Angelo meno di forse Domenico Piccioni partito ha mantenuto fede all'impegno quando si è candidato ed è arrivato fino alla fine con dignità lo dico io perché era un altro candidato autorevole di questa competizione e a lui va veramente il nostro applauso come Domenico Piccioni che è stato in un testa a testa con Camillo D'Angelo e poi dicevamo adesso saranno state sono state i due voti in più a Teramo oppure sono state i cinque sei voti rossi lei non ci ha detto però per chi ha fatto campagna elettorale io ho lavorato con il centrodestra quale centrodestra questo è il problema in quale centrodestra lavorare perché no ma anche insomma sembra di capire no no c'è stato lui a qualche voto al centrodestra l'ha preso ho sentito ho sentito gli accordi ho sentito ecco la vicepresidenza il ruzzo che domani c'è anche un'assemblea importante a cui bisogna andare l'ho detto oggi c'è una disgregazione di fondo perché lei per chi ha fatto campagna elettorale fatto per Domenico Piccioni campagna elettorale ha vinto Camillo D'Angelo ok Camillo D'Angelo è partito prima ed è stato più forte tre giorni dopo che ha presentato la candidatura che è ufficializzata Presidente se lei dovesse dire ha vinto Camillo D'Angelo diciamo sono risultati sconfitti Domenico Piccioni e Massimo Bagnoni ma politicamente se lei dovesse dire una parola politicamente chi ha vinto? politicamente ha vinto Camillo D'Angelo politicamente secondo lei Presidente chi ha vinto politicamente? ma politicamente l'analisi chi ha perso dall'altra parte? secondo me è più chiaro il discorso hanno vinto tutti quei civici vicini ai partiti che volevano contrastare una gestione partitica che oramai era troppo incline ai ruoli e alle poltrone hanno perso certamente Fratelli d'Italia che naturalmente è stato il primo partito che ha espresso la candidatura lei ha vinto perché ha perso Paolo Gatti? a mio avviso il ruolo di Paolo Gatti è stato quello di accomunare dei soggetti attorno a questo progetto che però tra di loro non hanno trovato fintesi sicuramente l'idea che lui ha avuto può essere per se stesso ottima naturalmente non era però quella vincente e i numeri hanno dato diciamo poi il risultato è stato chiaro che questa idea non è stata vincente perché se prendessimo la somma matematica di quei numeri avrebbero dovuto avere una maggioranza molto più ampia rispetto a quello che hanno preso cosa che non è successa naturalmente il ruolo di Paolo Gatti forse in questa fase ha creato più fratture che diciamo unioni secondo lei presidente chi ha perso? hanno perso quelli che hanno perso i due candidati Domenico Piccioni con la connessione no politicamente chi ha perso? hanno perso tutti avete visto i partiti hanno perso se andiamo avanti se vogliamo parlare di partiti perché lì è partito con un progetto civico e poi ci ho detto che è partito Camillo D'Angelo perché all'inizio con Camillo D'Angelo non c'era nessun partito quindi hanno perso i partiti perciò dico che ha vinto Camillo D'Angelo perché quando è partito non c'era nessuno poi mamma non trovo collocazione sto con Camillo poi alla fine è successo qualche buttata rapporti amicizia poi è così fu il gioco di chi vince nel senso ma chi si candida chi ha il coraggio di candidarsi ha già vinto se poi nell'urna sei stato eletto hai vinto insieme a chi ti è stato vicino perciò dico se c'erano tre centrosinistre cinque stelle forse a due non so quali candidati perciò dico il vincitore è Camillo D'Angelo insieme al suo gruppo questo è innegabile sicuramente la frattura del centrodestra ha aiutato il candidato ma anche questa volta secondo lei c'è stato comunque un voto contro Paolo Gatti come successe le amministrative a Teramo che poi sì come dire c'è stata una comunione di intenti nell'abbattere Paolo Gatti ma non una comunione di strategia io non penso ai voti contro e chi ha vinto è perché ha saputo lavorare poi se vogliamo dire che è contro Tizzo che poi puoi trovare uno che dice contro Paolo uno è contro Marco uno è contro Giuseppe ognuno troverà in modo ecco ho detto Domenico Piccioni che saluto e ringrazio perché oggi anche trovare chi si cansi sono essenziali le risultate che sono mancati i voti della maggioranza di Domenico Piccioni qui ragazzi adesso andiamo sul gossip non glielo so dire sul gossip no ci sono le schede non è gossip ci sono le schede dei comuni rossi cioè quelli la maggioranza del suo comune la maggioranza del suo comune io adesso non l'ho sentito su questa analisi qui del voto però poi quando si va io penso la competizione c'è stata si è votati lì è finita la partita bisogna poi ritrovarsi adesso se si va alla caccia di chi ha perso chi ha perso di più è difficile perché il voto è segreto adesso qualcuno deve immaginare pensare o capire questo è il dato io credo che ha vinto ecco il coraggio lui è stato coraggioso ha accettato è andato avanti Presidente il sindaco di Silvi ha votato per lei o per Massimo Melloni? ma questo non lo posso sapere perché nell'urna c'era lui naturalmente nell'urna c'era lui so che il sindaco di Silvi è una persona lì già è al partito e presumo che ha votato dove la Lega ha indicato ok però vabbè la Lega ha indicato anche poi di votare lei il segretario il segretario Ivan Costantini ha fatto votare lei quindi ha fatto un discorso diverso il segretario Costantini ha detto una cosa diversa ha detto che l'ordine della Lega era di appoggiare il candidato Massimo Melloni che ringrazia una persona veramente la conoscevo diciamo in maniera così approfondita ma devo dire che è stato un gran signore un leale diciamo avversario e fino alla fine con lealtà con compostezza con correttezza portato avanti il suo programma il suo piano poi il risultato è comunque dignitoso sempre che sia l'uno per cento che sia un uno o meno di un altro secondo me il risultato è sempre dignitoso a prescindere perché il percorso l'ha fatto insieme a noi con idee davvero concrete la Lega ha detto una cosa semplice bisogna votare Massimo Melloni naturalmente magari c'erano dei civici vicini alla Lega che hanno gradito magari votare altri non necessariamente tutti me anche dei civici vicino a Forza Italia i civici sono civici come dissi nella prima trasmissione i partiti ma non è comodo perché oggi quando si parla di partiti si pensa che tutti abbiano un'etichetta in realtà i tesserati di partiti sono solo 170-180 consigliere su 612 i partiti a tavolino pensano di poter decidere le partite facendo abbinamenti di percentuali ma poi il risultato non è quello che si spera è vero che tendenzialmente si ha un elettore ha la percezione che il partito possa essere forte quindi determinante spesso si accodano senza comprenderne le dinamiche perché girando molto i comuni ogni consigliere in realtà esprimeva quella che era la volontà del comune o di quelli vicini non conosce in realtà provinciale quindi se c'erano comuni vicini tendenti a dicevano vince Piccione se c'erano comuni vicini tendenti a Bagnoni vince Bagnone se c'erano comuni vicini nessuno comprendeva il panorama lo scenario provinciale tant'è che giravano numeri veramente sballati da tutte le parti non che abbia naturalmente in mano la conoscenza dei numeri però un pochino più lei un po' ce l'ha in mano la conoscenza dei numeri lei sa che su CV non ci ha voluto rispondere vediamo se risponde Diego di Buonaventura su Notaresco il secondo del consigliere Toni di Gianvittorio ha votato Massimo Vagnoni come era l'ordine di scuderia di Forza Italia o ha votato Camillo D'Angelo questa è una domanda che dovremmo fare a lui è su no però credo che abbia votato Massimo Vagnoni anche per a lei risulta il voto di Notaresco risulta non lo conosco non lo conosco personalmente anche per la personale amicizia che ha con il sindaco di Martinsicuro penso che abbia mantenuto l'impegno che ha preso poi in politica tutto può accadere non lo so però ecco una domanda che dovremmo chiedere no vabbè però insomma voi due conti ve li siete fatti l'urna l'avete vista insomma conoscete lei è sindaco di Notaresco insomma un sindaco sa che cosa succede in casa propria se non lo sa se lei non ha governato i voti dei suoi consiglieri di maggioranza è grave io sono ben noto per la libertà quindi sono lì perché la libertà ti porta alla vittoria vabbè ma lei come mai c'ha sempre un po' questo mertà nei confronti del consigliatore di Gianvittoria perché forse eh nel senso non stava lei c'era un po' come spina nel fianco però pubblicamente poi come dire non 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 perché sarà il prossimo sindaco candidato sindaco di Notaresco ha un percorso aperto già sta in regione senza ci sentiamo ci vediamo poco ultimamente però va bene quindi non le risultate perché insomma a noi risulta che come molte insomma così come Ivan Costantini come dire per la Lega non abbia più fatto votare Vagnoni anche Gianvittorio per Forza Italia non abbia eseguito l'ordine di scuderia del partito come molti altri componenti del PD del resto non hanno penso che sia difficile che sia stato uno dei promotori del candidatore di Vagnoni insieme agli altri ok poi è l'urna sempre la famosa urna va bene sempre quest'urna poteste parlare allora io chiedo intanto un attimo il contributo del nostro tecnico e regia Francesco Di Carlo per far visionare un attimo un post pubblicato ieri mattina dalla vice segretaria di Forza Italia Francesca Persia pubblicato durante diciamo sostanzialmente l'urna l'urna aperta se mi aiuta un attimo 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 pubblicato allora questo è stato pubblicato ieri mattina quando erano in corso le votazioni provinciali allora Francesca Persia scriveva ieri la lealtà è una virtù senza compromessi o dentro o fuori diceva Confucio mettete la lealtà di sopra di ogni cosa e non abbiate paura di correggere i vostri errori resterò sempre fedele ai miei principi e a chi è leale con me quindi qualcosa stava già succedendo ieri mattina cioè insomma che cosa vuol dire lei a un certo punto immagino che non avrà detto oi boh mi stanno arrivando più voti della Lega di quanti me rispettati sai che cosa è successo cioè succede quello che succede in tutte le competizioni elettorali nelle ultime 48 ore questo è qua c'è una grandissima percentuale di persone che decide nelle ultime 48 72 ore prima ascolta ascolta idee che poi le cambia durante il percorso nelle ultime 48 72 ore c'è la decisione del voto quindi in realtà non è una mancanza di un comportamento sleale ma è il consolidarsi di una decisione presa durante i giorni precedenti quindi in quelle ore si identifica poi ognuno concretizza il proprio voto verso una direzione o un'altra ricordo che sono pochissimi i consiglieri tesserati quindi tutti gli altri sono civici vicini più o meno distanti dai partiti quindi in realtà nessuno è stato sleale o scorretto erano solo pochi coloro che sono identificabili con partiti l'80% non è identificabile al partito simpatizza per ma in realtà potrebbe votare a tutta altra parte che ricadute che ricadute ci saranno adesso dal punto di vista politico perché è innegabile che voglio dire insomma c'è stata una scissione tra la Lega e Fratelli d'Italia che comunque in Regione governano insieme e teoricamente dovrebbero essere insomma alleati di governo c'è stata anche una scissione all'ultimo minuto tra Forza Italia e Lega perché manca all'interno della Lega stessa perché ci risulta ad esempio che il consigliere Emiliano Di Matteo vice segretario regionale della Lega non abbia condiviso l'idea del segretario provinciale del partito Ivan Costantini di sostenerla mentre diciamo Emiliano Di Matteo è rimasto fedele insomma alla candidatura di Vagnoni c'è un'implosione cosa succederà di qui il risultato è la risposta stessa chi ha sposato questo progetto nelle ultime ore è il primo tra tutti il sindaco di Teramo e la città di Teramo ha preso una direzione ben precisa che è stata quella di rivoluzione politica all'interno della provincia di Teramo chiudendo una pagina che durava da 30-40 anni che faceva riferimento qual'era la pagina politica la pagina politica è quella aperta da dei nomi noti della politica terramana faccia i nomi non parla faccia il politiche posso dire gatti posso dire naturalmente altri nomi con gatti la personificazione di una serie di soggetti come gatti naturalmente che anche non avendo come lui i ruoli politici in realtà sono capi politici sono aggregatori sono persone che stanno anche in politica attiva che hanno gestito in un determinato modo non il potere ma il ruolo politico perché dire di aver gestito il potere sembra quasi di dover gestire delle cose concrete no il ruolo politico gestito in un determinato modo naturalmente questa pagina questa modalità si è chiusa e ha aperto una nuova pagina che naturalmente è nuova è rivoluzionaria e darà sicuramente ci saranno sicuramente degli effetti è una minaccia no non è una minaccia gli effetti possono essere più o meno visibili a breve o a lungo termine è chiaro che in questo momento particolare dopo questa elezione provinciale abbiamo importanti appuntamenti elettorali quindi in ordine le elezioni amministrativi di primavera quindi ci sono nove comuni al voto se non sbaglio di cui sei sette molto importanti c'è Teramo Silvi Civitella ci sono comuni che hanno una loro importanza naturalmente Atri che naturalmente essendo sopra 10-15 mila abitanti sono politicizzati per ovvi motivi e quindi lì sì la politica avrà degli effetti questa scommessa fatta dai consiglieri di Teramo dalla città di Teramo aprono un nuovo modello di gestione che naturalmente avrà i suoi effetti ovunque ci sembra una chiara minaccia Presidente lei invece che ricadute vede da questo voto? intanto sul posto di Francesca Pessa bisogna riconoscere la realtà che è stata partita è stata lì ferma chi era presente ieri lei chiede Strasci che va a Notaresco perché c'è anche Notaresco tra i nomi comuni dove si vota in primavera Strasci nulla Notaresco è un piccolo borgo sotto i 15 mila abitanti è un piccolo borgo ma esprime un consigliere regionale ha espresso il presidente della provincia che non si sa se è prossimo a entrare in Fratelli d'Italia tra l'altro colgo l'occasione per domandarglielo entrerà in Fratelli d'Italia? adesso dopo questa esperienza in provincia decideremo che fare però ecco era importante il messaggio di Francesca perché allora va riconosciuta come diceva prima il presidente sono stati lì sono partiti come competizioni con lealtà con dignità sono stati fedeli a quella mission senza poi il rapporto tra Forza Italia e Lega tiene reggerà dopo quello che è successo ieri? Sinceramente c'è qualche mugugno c'è qualche circolio perché siamo partiti insieme può essere che io parto con voi con un progetto ci accorgiamo che a metà forse non era come pensavamo diciamo cerchiamo di arrivarci anche pian piano arriviamo a traccare questa barchetta non è bello che io parto mi accorgono per andare più veloce ti scarico ti butto giù dalla barchetta e questo sicuramente qualche strascio qualche se è vero tutte le cose che oggi sto sentendo qui ascoltando in trasmissione faccio fatica a dire che lei le sta ascoltando qui oggi per la prima volta è vero qualche distonia la creerà è normale perché siamo compagni di viaggio e poi tu mi cerchi di buttare dalla barchetta per andare più veloce qualche difficoltà ecco faccio allora va riconosciuta la lealtà sono partiti forse poi sono accorti che questo progetto non era come era stato pensato però con dignità sono arrivati fino alla sera del voto lì precisi diciamo loro sono stati leali con Massimo Vagnoni che possiamo dire che è stato fagocitato dalle diatribe interne della Lega sicuramente ha pagato anche il fatto che lei non ha dato la vicepresidenza Costantini Vagnoni cosa ha scontato guardate sarà sempre così perché adesso il presidente che ha vinto e dico sempre quando uno vince ha i problemi e due mattina deve iniziare a capire anche il presidente cioè sta dicendo che Costantini domani diceva anche il presidente adesso che farà la squadra troverà sempre qualcuno che forse si aspettava qualcosa di più e sarà sempre così qualcuno si aspettava qualcosa di più la prossima volta se può la polizia che è stata sempre così da quando ha detto io ricordo Renzi con l'incarico del ministro degli esteri che diceva la Mogherini D'Alema l'ha spettato al Varco purtroppo è così quando governi ecco devi mantenere poi c'è chi quello che si sente quello che non ha preso quello che si sentiva che è un comportamento dice va bene mi è bastonato sto con te e quello che invece ti aspetta sulla riva è così purtroppo adesso poi se quello che dicevamo qui in trasmissione è vero qualche mugugno e qualche distonia oppure se ecco io dico richiamo sempre al governo dei cittadini questa è stata una partita anche sofferta anche con difficoltà con qualche scorrettezza ma da domattina in regione bisogna governare in provincia bisogna governare nei comuni bisogna governare poi c'è l'assemblea dei sindaci a rutto poi domani ecco bisogna rutto bisogna governare il bilancio di previsione bene ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria rimanete con noi ci vediamo sempre qui con le dinamiche della provincia tra poco bene buonasera ben ritrovati con la nostra tribuna politica abbiamo quest'oggi il piacere di ospitare con noi Camilo D'Angelo presidente neoretto della provincia di Teramo e Diego Di Buonaventura sindaco di Notalesco e presidente uscente della provincia stessa stiamo facendo appunto una chiacchierata sugli strascichi politici che ci possono essere insomma con queste elezioni particolari visto vete incrociate alleanze miste e quant'altro senta Camilo D'Angelo presidente lei ha detto c'è stata un'alleanza con Teramo Città ora esca dal politichese in che cosa si concretizza questa alleanza con Teramo Città cioè lei cosa ha promesso un appoggio alla candidatura di Gian Guido D'Alberto per un D'Alberto Bis cioè qualcosa voglio dire insomma ha pesato tanto il comune di Teramo in che cosa si traduce poi politicamente nel risarcimento la mia posizione è quella più semplice perché non ho accordi di partiti quindi non ho incontri di persone un accordo personale no non è per nemmeno io ho fatto un accordo di metodo e di programma quindi non ho dovuto scambiare cose per convincere Gian Guido D'Alberto che come dire è noto per essere un traccheggiatore lei qualcosa ha promesso ci dica cosa notoriamente forse non sarà un decisionista però devo dire che con i colloqui che ho avuto che naturalmente non nascondo di aver avuto ma neanche da ieri neanche dall'altro ieri non abbiamo mai parlato di poltrono di contenuti abbiamo parlato di metodi di programmi e di futuro senza parlare di enti senza parlare di poltrone senza parlare di delega o di scambi in una maniera molto franca quindi la sua si è tappato il naso Gian Guido D'Alberto per votare lei è stato voto contro devo dire una cosa la sua principale preoccupazione era il metodo della tutela della chiarezza dei contenuti della chiarezza della programmatica non credo se si è tappato il naso perché per convincere 22 22 no sono di meno forse 17 consiglieri a votarmi anche di estrazione politica e civica diversa perché poi sono sei del PD sei civici due di altri tre quattro gruppi diversi oltre altri civici del sindaco per convincere 17 consiglieri naturalmente credo che probabilmente qualcuno sicuramente si sarà anche tappato il naso ma da quello che so c'è stata una scelta abbastanza libera dei consiglieri politichetti no assolutamente no non credo sia semplice la mia maggioranza è fatta di 7 consiglieri la maggioranza è così grande come quella di Teramo vi assicuro che già la mia è portare tutti i consiglieri da una parte è già difficile credo in tutte le amministrazioni comunali d'Italia credo però conforta il ragionamento che ci deve essere stato qualcosa di politicamente valido che può aver messo sul piatto per convincere anche i consiglieri che magari malfancisti che può aver avuto il sindaco d'Alberto ma non c'è stato se ci sarà in futuro perché continuiamo su questo metodo non lo escludo però non c'è stato alcuno scambio di tipo contenutistico ma solo di metodo è percorso però si vota a Teramo si vota a Teramo chiaro che questa elezione è stata in funzione il sindaco non mi ha chiesto di prendere nessuna parte naturalmente è chiaro che questo progetto riguarderà anche e soprattutto il modello e poi il metodo che si è adottato e quindi naturalmente essendo lo stesso modello che noi abbiamo adottato convergeremo su una diciamo questa linea che è la linea del sindaco d'Alberto di buona ventura lei è d'accordo lei sa pranzo ma sarà stato tirato per la giacchetta per anche in vista dell'importanza delle amministrative di Teramo che è comunque dopo luogo un banco di prova per la tenuta delle alleanze è dato di 22 voti ah e poi domando Sandro Mariani alla fine si candiderà contro Gian Guido Alberto sono notizie che essendo qui che essendo in giro non so adesso che cosa poi di quando c'è quando c'è di vero su questa su questa cosa qui però ecco il fatto che le indiscrezioni parlavano del fatto che lei ha votato Piccioni quindi sarà al corrente degli accordi che sono stati fatti pro Piccioni si parlava del fatto che Sandro Mariani in qualche modo avrebbe indebolito la candidatura di Gian Guido Alberto non lo avrebbe più sostenuto qualora insomma ci fosse stato questo accordo in provincia anche perché del resto è noto Mociano Mirco Rossi insomma le persone vicine a Sandro Mariani hanno tenuto fede all'accordo facendo votare Piccioni e si parlava di una insomma di un indebolimento a scapito di Gian Guido Alberto a lei risulta questo? Attualmente non ci sono non c'è nulla adesso tanto si vedrà perché siamo già a febbraio e le amministrative sono alle porte già bisogna partire dopo domani per chi pensa di candidarsi a Teramo Città perché poi Teramo è una città di 5.000 abitanti 7.000 abitanti ma lei è così prudente perché si vuole candidare alle regionali e quindi non vuole urtare i segretari di partito è così a febbraio nel senso che bisogna che bisogna bisogna però io dicevo partendo invece dal dato che pensate che la bravura di portare 22 voti su Camillo Lancio che oggi è presidente ha deciso di decretare la vittoria che se ne erano 20 era già un'altra cosa cioè il fatto di diceva bene il collega sindaco che è già presidente oggi presidente lui già governare 7, 8, 10 teste su un argomento una vuole verde una gialla una rossa è già difficile ecco portare 22 voti su un candidato è stata poi da quello che ho capito maturale si candidano alle regionali io? si io lo dico qua non ho mai pensato di essere candidato in provincia e di essere eletto e lo sono stato adesso manca ancora un anno alle regionali e dico che da qui un anno può succedere di tutto anche che non ci sto più perché la vita oramai è sempre così breve e precaria si parla di un suo posizionamento nella lista del presidente o con Fratelli Italia lei pensa di abbracciare Fratelli Italia? tutto può essere tutto può essere però ecco adesso penso che ho detto di tornare di tornare ecco a fare il sindaco al 100% perché adesso una delle brutture di questa legge che Camillo D'Angelo qui saprà che devi essere sindaco e presidente ecco noi siamo partiti sempre dai comuni oggi è diventato presidente perché era sindaco di quel comune che lo ha votato ed è duro perché devi gestire due comunità ed è drammatica io faccio oggi ecco torno comunque che il presidente lei abita a Terramo comunque vero? ok presidente in ambito di deleghe adesso la vicepresidenza lei la darà a Ivan Costantini? adesso sto consultando naturalmente delle persone che mi sono state vicine e consulterò nella giornata di oggi sono state diverse chiamate tutti i consiglieri per farmi un quadro naturalmente la sintesi verrà fatta breve nei prossimi giorni può anche darsi che sia diciamo uno tra i nomi che riscuoteranno diciamo la delega da vicepresidente con molta probabilità quindi ci sta confermando che è no può anche darsi perché nel senso ancora non abbiamo avuto interlocuzioni con tutti e non è che poi c'è stata questa grande richiesta alla vicepresidenza quindi in realtà pensa di spacchettare la viabilità anche lei? certamente sì ok ma invece diciamo mi domandavo oggi si è parlato diciamo uscito negli organi di informazione si è parlato delle dimissioni da vicepresidente del consigliere Frangioni le indiscrizioni parlavano anche di Pavone ma non c'è stata alcuna ufficialità cioè lei ci sarà qualcuno che conserva pulisce via tutto le dimissioni sono intrinseche diciamo nella nomina del nuovo presidente perché il presidente che delega il nome del vicepresidente delega i consiglieri quindi oggi nessuno è delegato sono tutti non delegati sono semplici consiglieri naturalmente bisogna nominare con decreto il vicepresidente ma lei dice che di fatto sono sostanzialmente già zerati sono solo consiglieri sono già zerati tutti nessuno è delegato quindi è prima di mettersi da vicepresidente certo viene meno il delegante che è l'ex diciamo presidente e quindi il delegato non è più delegato bisogna rifare i decreti quindi a mio avviso nel senso non ho trovato la motivazione di questa dimissione però è chiaramente una comunicazione che viene fatta da un gesto politico ci può stare insomma da un punto di vista di comunicazione di gesto politico di Agno Pavone non so nulla non ho sentito penso di ridimensionare i consiglieri che a suo avviso insomma penso alla Franco Cardinale sicuramente delle deleghe importanti penso a Pavone che ha insomma la delega alle scuole che comunque sicuramente cambieranno profondamente perché ricordo che il mio elettorato è principalmente civico di centro-sinistra quindi è normale che la maggioranza non sarà più quella di prima senta come si regolerà nelle deleghe con il consigliere con Scarpantonio con l'altro consigliere in realtà diciamo con Scarpantonio ho avuto anche interlocuzioni nei giorni scorsi perché il PD mi invitò a una riunione dove mi chiese di mettere sul piatto qual era l'offerta per il padrone quindi naturalmente il piatto disse che avrei avuto interlocuzione con il PD nel caso in cui ci fosse stata l'elezione il PD ha manifestato espressamente di aver votato Piccioni quindi naturalmente ho ma l'hai incontrato con il segretario del PD? si mi hanno convocato non mi sono incontrato mi hanno convocato mi hanno detto che hanno convocato di aver convocato tutti e tre i candidati non lo so se hanno convocato gli altri due a me mi hanno convocato dicendomi qual era l'offerta per l'accordo col PD forse la mia offerta è stata inferiore rispetto a quella degli altri io ho offerto siccome non avendo partiti ho detto al PD di fare un asse con tutti e cinque consiglieri quindi ho offerto la maggioranza di tutti e cinque consiglieri probabilmente gli altri candidati hanno offerto consiglieri anche che non avevano non lo so perché probabilmente c'è stata diciamo un'offerta a proposito la blocco un attimo sempre chiedo sempre il supporto di Francesco Di Carlo in regia per vedere un attimo il posto di poche ore fa di Manola Di Pasquale non so se ha avuto modo di vederlo per chiedere un commento anche su questo è scritto lei invece nel frattempo che insomma mi supporta eccolo personale riflessione politica ricordiamo Manola Di Pasquale è il presidente regionale del partito democratico la competizione conclusa si con l'elezione di Camilo D'Angelo a cui vanno fatti gli auguri hanno messo a nudo la totale assenza di appartenenza ideologica e la pericolosa demonizzazione dei partiti la vittoria di D'Angelo questo diceva al PD chi lo diceva? eh non so sono al PD perché è appartenenza ideologica però dice la rappresentazione dei personalismi delle becere rivalità tra personali politici delle vendette trasversali di chi non ha saputo aspettare il suo turno e ha voluto pesare la propria forza era lei che doveva aspettare il suo turno? ma io non appartengo al PD quindi non so non c'era il mio turno nel PD suppongo richiedo ancora perché so che nel PD qualcuno che è arrivato l'altro ieri mi ha apostrofato in una riunione traditore quando io non avendo tessera non capisco come faccio a tradire è come se due persone che non stanno insieme diciamo si definiscono traditori quindi anche questa cosa nel PD è fantastica la comprendere si accusa il Partito Democratico di aver ricercato un accordo con il centrodestra sì certo è vero ma nel solo interesse dei territori in un progetto di condivisione che perseguiva il bene comune non accordi tra personaggi politici ma tra i due partiti maggiori fra l'Italia e PD nella visione più alta della politica troppo difficile da capire gli amministratori del PD con lealtà hanno perseguito questa progettualità politica ma anche qui i personalismi hanno prevalso facendo apparire una nobile progettazione politica come inciucio fastidioso e disonorevole come se poi le altre alleanze fossero più onorevoli come se i finti civismi rappresentassero e sì soltanto l'architrave di una democrazia perfetta per il finti civismo mi sembra una a me sembrano più vaneggiamenti che riflessioni lei che cosa pensa di questa non sto capendo più niente perché se così fosse sto ragionando si possa se così fosse non doveva prendere 22 voti quello d'angelo sulla maggioranza di terra o ne doveva prendere qualcuno in più o Massimo Pagnoni o Domenico Piccioni così oggi mi perdo vedi che qua questa trasmissione ci aiuta a fare chiarezza perché dice che aveva una chiara indicazione gli iscritti al PD in terra ma non c'è nessuno iscritto al PD da oggi no che no nessuno che poi la cosa simpatica è che l'indicazione è avvenuta a 48 ore dal voto un partito prende la posizione prima che parta la competizione elettorale quindi averla data due giorni dal voto mi sembra quasi un tentativo di saltare sul carro a mio avviso secondo lei il suo collega D'Angelo avrà più facilità nell'attribuire le deleghe rispetto a lei hai visto il peso non è mai semplice lei ci ha messo tantissimo io cucino a bassa temperatura talmente basta che poi siamo a cadavere non so adesso le alchimie perché posso immaginare il Presidente ha meno difficoltà lei è un po' storgnone sull'idea a meno difficoltà di me perché Ivan Costantini faccia il Vice Presidente di Camino D'Angelo è già semplice lì facciamo tipo quando bastiamo le caselle ha già parlato chiaro sa chi dei consiglieri del Consiglio provinciale sa chi lo ha appoggiato già lo sa anzi sono pochi anzi lui chiamerà qualcuno stai con me stai con me stai con me potrà fare così non è che diciamo ma visto che alla fine è il Presidente che ha tutti i poteri c'è il potere di firma i consiglieri contano poco non è che il Presidente è stato un po' più furbo magari lei potrebbe dire sì ma ti do la vicepresidenza ma tanto che conta lei invece ha traccheggiato un po' come mai cioè poteva essere un po' più io ero più consiglieri forse magari D'Angelo lo sa che l'idea è che contano poco a me si trattarono più consiglieri lui invece lui arriva con un consiglio già pronto e con alcuni consiglieri che lo hanno sostenuto che questo è il dato a proposito di consiglio già pronto quindi dice c'è una minestra già mezza fatta lei che provincia lascia ha parlato di un bilancio stratosferico insomma quindi avrà la strada spianata no lui ha tanto da lavorare che abbiamo beh sapete abbiamo fatto in opera 80 milioni di euro poi con il suo comune abbiamo lavorato insieme ci sono tantissimi soldi anche soldi freschi progetti bandiere che lui dovrà andare a Roma a sottoscrivere le convenzioni ecco avrà 80 milioni di euro da mettere a sistema nei prossimi 3-4 anni ecco c'è qualche qualche promemoria lei lascia appunto 90 milioni di euro di interventi finanziati da realizzare sul territorio un pacchetto per i quattro nuclei tanto poi Camillo sa leggere e scrivere perché è sindaco di un comune sa che cosa significa se sono finanziati realmente oppure da finanziare ha tante altre cose da fare perché ci sono c'è la ricostruzione anche qui non so che cosa succederà adesso con con Guido Castelli perché lì sono i 110 milioni di euro che purtroppo non gestiamo noi come provincia perché nell'ordinanza che fecero la gestisce in vitalia però lì abbiamo fatto già due riunioni Camillo prendere in mano la situazione per capire almeno un cronoprogramma degli interventi da fare perché è importante poi la gestione delle scuole come trasferire abbiamo individuato un edificio Giolli per il centro sono tante le cose da fare in provincia perché le province continuano a ricrescere perché è innegabile che sulla spesa corrente avranno nuovi finanziamenti sia per le assunzioni sia per riorganizzare come era la provincia tanti anni fa perché la provincia di oggi non è quella del 2014 prima ci stavano 6-7 dirigenti la provincia ha due dirigenti effettivi con una vocatura nel senso ecco avrà la possibilità di poter riorganizzare per arrivare poi ci sono tante persone che vanno in pensione che consiglio si sente di dare su Pratiditivo su Pratiditivo oggettivamente insomma ancora ieri Pratidivo nonostante non ci fosse un sole splendente intanto l'ho detto quello che ho detto stamattina gli impianti chiusi sono uno schiaffo a questo territorio che anche lei non è riuscito a superare quindi che consiglio si sente di dare tra due cose intanto gli ho detto l'augurio di avere coraggio e già ce l'ha dimostrato di averlo di sognare e di pensare in grande quello che deve fare concretamente che cosa deve fare Pratiditivo ce ne ha buttato giuridica amministrativa perché tanto lui troverà una società in liquidazione che l'ho trovata io con un liquidatore che era già lì dal 2014 dovrà aspettare purtroppo tecnicamente che finiscono le ultime cause e penso che per marzo tutta quella buttata giuridica amministrativa dovrebbe cessare cessata la buttata giuridica amministrativa qualcuno dovrebbe comprare e pensare a un nuovo modo di sviluppo turistico chiusa quella fase della Gran Sasso avrà molta più libertà Presidente lei è contenta di questo tesoretto che ne lascia Diego di Buonaventura che cosa pensa di fare sono contentissimo e lo ringrazio per questo tesoretto perché diciamo ne ha consumato ne ha consumato poco la cosa importante è quella tanto mi lascia un forziere pieno di soldi forziere pieno di soldi naturalmente da spendere in un territorio non a me siccome mi lascia un forziere pieno sono contentissimo perché se il forziere fosse già stato indirizzato nella spesa sarebbe un guai quindi siccome mi lascia pieno cercherò di accelerare tutti i processi sapete uno degli interventi belli io starò su con lui che abbiamo sofferto che abbiamo fatto anzi dobbiamo dirlo perché poi c'è stato anche questo fatto del referente sono stati insieme su affari che metterà finché rimanevamo a terra uno degli interventi che fareste estate è tutto l'intervento più importante tra i milioni e mezzo di euro nel suo paese che lui lo salvo non è che sta pensando a Valle Castellana ha fatto io ho fatto i lavori c'è la programmazione e lui farà quella la programmazione che si occuperà solo di Valle Castellana che è un territorio abbandonato da 30 anni perché Valle Castellana sta così e c'è qualche animo che vuole andare ad Ascoli perché era abbandonato da 30 anni lì abbiamo investito 6 milioni di euro e 10 milioni di euro che farà lui nei prossimi 2-3 anni non tutti quest'anno perché sono da programmazione quindi lei è contenta di questo tesoretto ha delle priorità in mente certo processo di accelerazione quindi riorganizzazione della squadra interna quindi le aree degli uffici rimettere il personale tecnico e amministrativo e soprattutto una cosa che avevo già in mente che non ho mai detto poi durante la campagna elettorale riassumere i cantonieri fondamentale riassumere almeno 40 cantonieri 50 cantonieri tutto il territorio il bilancio e la dotazione organica lo consente perché la manutenzione ordinaria è un elemento fondamentale per le strade quindi le culette l'erba la cura delle strade perché a volte piccoli interventi aiutano a risolvere e a spendere meno per grandi opere diciamo di risoluzione dei problemi poi le opere strategiche sono un altro discorso da trattare successivamente e sul preditivo? sul preditivo mi permetto chiaramente nulla togliere a chi mi ha preceduto avendo 10 anni di esperienza di gestione degli impianti quando io sono entrato nel Cotuge il consorzio perdeva 170 mila euro l'anno ogni anno storicamente dopo due anni l'ho fatto perdere 40-45 mila euro dopo il quarto anno ha pareggiato ho salvato gli impianti due volte avendo pochissime somme a disposizione come vuole fare per il preditivo? e poi l'ho rilanciato facendolo diventare un gioiellino a costo zero tant'è che la nostra stazione funziona oggi e ha funzionato sempre negli anni avendo praticamente negli ultimi 30 anni solo 600 mila euro a differenza dei 13 milioni di preditivo adesso abbiamo preso 12 milioni anche noi per ripristinare la stazione da San Giacomo fino a Montepiselli ma per preditivo sarà mia premura naturalmente risolvere immediatamente il problema come? appena diciamo si chiuderanno queste vicende giudiziarie magari possiamo organizzare una serata un incontro ad hoc così vi darò tutti i passaggi per risolvere il problema perché ci sembra di capire che lei ci ha già in mente conosco benissimo le procedure nel senso per me appena naturalmente sono i procedimenti che diceva il presidente che devono essere chiusi quelli giudiziari perché se non si chiudono quelli naturalmente sono dei processi sospesi procedimenti sospesi che devono arrivare naturalmente a sentenza o a chiusura poi appena quelli saranno completati saranno conclusi ci potremo vedere se avete piacere così vi indicherò tutti i passaggi da seguire per risolvere brevemente il problema relativamente alla riorganizzazione interna dell'ente? sicuramente ci saranno più aree ci saranno spacchettamento dei settori personale settorializzato rispetto a quello che è oggi le aree saranno aumentate almeno di tre unità quindi saranno diverse indicazioni insomma di dirigenza ha già l'idea insomma molto chiara altre priorità diciamo per quanto riguarda invece i territori cioè quelle che sono le prime urgenti sicuramente le scuole sono un'urgenza scuole concorsi dell'ente e mettere in campo il tesoretto delle strade abbiamo parlato di Pavone che aveva la delega alle scuole ma anche a Luzzi Luzzi presumo lui voglia Luzzi presumo ma la vicepresidenza secondo me a mio avviso non la vorrà secondo me Luzzi proporrà per sé credo che di non negardelo il mantenimento della delega del PNP una delega piena autonoma di sua funzione con naturalmente la gestione degli uffici fatta da se stesso Lei sorrideva un po' storgnone quando ho detto a Diego di Buonaventura che in fondo le delega non contano tanto il presidente che il potere di firma è vero che c'era questa consapevolezza quindi è poco impensierito dallo spacchettamento delle delega Nel senso per chi ha fatto il sindaco e chi è stato in consiglio come me per tanti anni e fa il sindaco è chiaro che i numeri giocano una partita importante quindi nei consigli comunali dove c'è bisogno della mano che si alza degli assessori dei consiglieri il discorso è diverso in provincia la struttura della provincia è diversa rispetto ai comuni è quasi un organo quasi monocratico dove il consiglio non ha funzioni di blocco diciamo dell'attività del presidente però è normale mantenere una condizione democratica di rappresentanza dei territori dei consiglieri cioè una funzione di ognuno deve essere svolta anche perché la collaborazione è fondamentale anche per produrre di più Senta adesso si poterà appunto sia a Teramo che a Notaresco immaginiamo insomma che si parla di una candidatura a sindaco di Toni di Gianvittorio lei supporterà la candidatura a sindaco come sosterà immaginiamo Gianvittorio d'Alberto visto questi voti copiosi lo dico sempre io non mi sono mai permesso nonostante abbia fatto anche attività politica nei partiti di andare a fare campagna elettorale negli altri comuni perché alla regionale ha promesso il sostegno a qualcuno? è diverso allora quando si vota quando si vota quando si vota a me ha messo questi candidati quando si vota diciamo alla regione quindi è un sindaco un consigliere può naturalmente supportare uno un altro candidato o un consigliere regionale appoggiare una candidatura di un sindaco ma a mio avviso da sindaco a sindaco di un altro rente non è il massimo diciamo dell'eleganza è chiaro che Teramo l'ufficio ci vivo il presidente della provincia sia anche insomma un volano un assist per una candidatura alle regionali lei qualcosa contributo a qualcuno avrà promesso in tal senso senz'altro non dimentico mai coloro che mi hanno sostenuto ma questo non lo faccio al di là del ruolo poi se il ruolo può aiutare a arrivare meglio al treguardo è normale che il mio contributo ci sarà lei Diego di Buonaventura di fatto ha ammesso che ho detto che si vengono però nel suo comune perché si stupisce che lei non sappia comunque nel suo comune cosa è successo nel senso la minoranza da indicazione del PD avrebbe dovuto votare Piccioni però poi comunque Piccioni non è uscito Tori di Gianvittorio non si sa chi ha votato avrebbe dovuto votare Pagnu cioè che cosa che cosa non è successo abbiamo detto prima nel consiglio comunale di Teramo dove sono esponenti del PD ha preso 22 voti Camilo D'Angelo il posto di Manolo è stato disatteso perché hanno altre indicazioni ma pare è stata un'elezione ma qualcosa è sfuggita nel suo comune vabbè però non è vero perché Teramo di consigliere di Fratelli d'Italia ce n'è solo uno quindi ha preso non le voti no dicevo quello di Manolo ce n'ha preso forse sei del PD attenzione perché secondo me non fate bene i conti come no scusi c'è solo uno di Fratelli d'Italia a Teramo che ha votato gli altri otto sono civici però c'è Fracassa che te sarà non ha la testa ok però non ha la testa ah certo ok dice come riferimento di partito quindi solo uno è Fratelli d'Italia quindi otto sono civici possono essere di ogni partito la ricerca di chi ha votato ogni singolo consigliere guardate che lo diceva prima il presidente qui molti hanno deciso mentre salivano le scale pure il voto è l'ultimo che l'ha andato tutte le due ore sì perché si sono scatelate le telefonate nell'ultimo momento Francesca Persia ha sentito di come dire affidare questa nota di sconforto e di delusione qualcosa cambia tutto la gente decide vado penso di votare nel senso è lì sulla scala potresti che uno sulla rampata delle scale ha deciso di fare un altro voto oppure un'altra indicazione però è stata un'azione partecipata perché siamo arrivati al 93% per lontaresco che strascichi ci saranno? non penso che un'azione provinciale possa creare strascichi su un territorio comunale non penso vabbè su Teramo ci saranno dei riverberi nelle elezioni amministrative di Teramo secondo lei Gian Guido risulterà azzoppato nella componente di Sandro Mariani? adesso è una cosa che dovremmo capire nel senso adesso non so che cosa farà Sandro Mariani però su Teramo è una città capoluogo giustamente qualche risvolto può anche esserci come è normale che ci sia dopo una che poi interno di conti nella Lega diciamo che lei che lei sa quale Lega? ecco tra Ivan Costantini e Emiliano Di Matteo secondo lei insomma c'è qualcosa che è successo se è vero quello che tu hai ascoltato qui lei non lo sa se è vero che parte della Lega va bene abbia votato per cosa farà da domani visto che insomma si riposerà un pochino è difficile fare attività amministrativa oggi impegnativo perché combatti con problemi di bilancio con servizi da fare attuare rifletterà se dovrà candidarsi con la lista del Presidente oppure con cosa faremo però è come è semplice bene allora io faccio l'inbocca al lupo al Presidente Camillo D'Angelo e un inbocca al lupo insomma per questi giorni un po' di riposo comunque in discesa per quanto riguarda Diego Di Buonaventura vi ringrazio per essere stati con noi e auguro buona serata a voi telespettatori ci vediamo sempre lunedì prossimo sempre con la tribuna politica sempre alle 20 buona serata ciao 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 Grazie a tutti.